Il terzo evento dell'estate è dedicato al commercio e allo shopping in accordo con le associazioni di categoria, con i commercianti che hanno dato un grande contributo per la realizzazione di queste manifestazioni che esaltano la funzione del centro commerciale naturale. Tre elementi fondamentali, tre ingredienti, l'offerta commerciale di qualità, i saldi, quindi promozioni scontate per tutti coloro i quali arriveranno a pescare, un'esperienza emozionale unica derivante da questo straordinario appuntamento. Oltre 30 location musicali dedicate agli anni 50 e 60 e tantissime iniziative anche organizzate singolarmente dai commercianti che vengono messe a sistema in questa straordinaria notte che noi riproponiamo appunto per esaltare quella che è la funzione commerciale della città, per richiamare un grande pubblico anche nel mese di agosto e quindi ci prepariamo alla chiusura di questa straordinaria stagione che ha rappresentato oltre 200 manifestazioni nella città di Pescara. Vogliamo far rivivere appunto un'esperienza emozionale, quella degli anni 50 e 60 e quindi ci saranno tantissimi spettacoli a tema, l'anno scorso abbiamo avuto una grande risposta di pubblico, quindi ci auguriamo che anche quest'anno tantissime persone arriveranno in città per fare acquisti in occasione della finale dei saldi, ma anche per vivere questo straordinario appuntamento a tema, come è stata a tema quella dedicata allo sport e poi quella dedicata in occasione dei saldi all'avvio del 7 luglio. Una manifestazione che ripeteremo per esaltare la funzione del centro commerciale naturale anche nei mesi invernali e quindi già stiamo lavorando per le luci d'artista e le altre manifestazioni appunto che esaltano questa funzione commerciale della città. Grazie.